benvenuti benvenuti alla diretta di oggi di stampa evangelo siamo a giovedì 6 di aprile del 2017 è una puntata importante per le cose sono avvenute ieri nel panorama politico e che possono modificare in paniera molto importante molto rilevante lo scenario che riguarda anche l'impegno del popolo e della famiglia quindi sarà bene studiare oggi gli effetti di ciò che si è prodotto ieri in parlamento saluto come sempre i primissimi che nei primi secondi già sono connessi maria pia cardinale milena brindisi trabona massimiliano esposito mari ammari ninnarello che ha scritto un lavoro straordinario sulla libertà scolastica e che nei prossimi giorni pubblicheremo sul quotidiano la croce massimiliano esposito credo di averlo citato saluto jacopo pioli che ci si riconnette dalla cina leo bollettini buongiorno a leo gloria callarelli ci mancano i tuoi articoli gloria aspettiamo per la croce saluto meri rossi nicolò marino eugenio guggi saluto silvia pardolesi che è connessa da non so dove andare a comprare le unghie per le mani insomma questi sono i misteri per l'universo maschile no quindi mi ha detto mentre fai stampa evangelo ti seguo e vado a comprare le unghie beh un saluto a mia moglie allora saluto ad angela ciconte a marco rapetti a rigoni a laura morra ad antonello di nunno a paola procaccini che ho visto ieri sera in questa bellissima iniziativa fatemi ringraziare il primo municipio di roma che abbiamo occupato per una volta eravamo nella sala del primo municipio la sala istituzionale a parlare di eutanasia parlare di valori è stato un bellissimo pomeriggio grazie a fabrizio lastè il nostro candidato presidente in primo municipio saluto marco fasulo che oggi ha scritto una riflessione molto importante sulla vicenda delle ragazzine islamiche tolte alla famiglia saluto mario gallitto gnotta emiliano velasco c'è sabino sabini ieri straordinario successo della via crucis su pdf tv grazie al gruppo preghiera popolo della famiglia 8.500 persone hanno seguito la via crucis trasmessa da popolo della famiglia tv grazie al lavoro di sabino sabini marco fasulo del tutto il gruppo preghiera del popolo della famiglia un lavoro importante nonostante sia stato sporcato dalla presenza di qualche bestemmiatore ma come ho detto a sabino il fatto che arrivino gli haters nelle trasmissioni del popolo della famiglia tv significa che stiamo facendo opera di evangelizzazione oltre ad essere un lavoro importante per la meditazione in tempo quaresimale per ciascuno di noi è arrivato anche il coordinamento editoriale con emanuela pongiruppi e leuteri saluto bella lavanda sarà piaceri irene stagliano cinzia gioia angelica bosio antonella iuna vi chiedo come sempre un mi piace un condividi alla diretta perché ripeto oggi spiegheremo alcuni trucchi della politica fanno giochi di prestigio e dunque sarà bene studiare quello che sta avvenendo saluto roberto bruno paolo basanisi zingarello ci conferma che le dimissioni del presidente nel municipio ottavo di roma sono diventate ufficiali quindi si torna al voto alex zino dice viva il pdf saluto melania simoni saluto sarah deodati anche lei presenta l'iniziativa di ieri del popolo della famiglia di roma saluto alberto agus del popolo della famiglia della sardegna saluto anna russo alessandra mondelli alida capuano oggi il suo compleanno allora buon compleanno ad alida tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri ad alida tanti auguri a te bellissimo poter festeggiare un'amica che viene qui a salutarci il giorno del suo compleanno saluto gerardo che dice sei bello ma no sono solo piacente grazie saluto mira d'angelo saimir zmali vittoria polacci mirco de carli ieri protagonista a conegliano per un'iniziativa organizzativa a sostegno di lorenzo damiano candidato sindaco al popolo della famiglia a conegliano saluto carla stefanini marco frenci andrea sergio francesco c'è cristina zaccanti con cui ci vediamo sabato ad alessandria per un'iniziativa di sostegno alle liste del popolo della famiglia ad alessandria saluto anche maria mari che ci ricorda lo straordinario successo di ieri sera a novoli di gianfranco amato segretario nazionale del popolo della famiglia con povia nello spettacolo che hanno tenuto quarto spettacolo in quattro giorni quattro teatri esauriti in terra di puglia dove stiamo radicando anche lì il popolo della famiglia saluto marco buono uno dei protagonisti della battaglia in umbia contro la legge sul gender lo ringrazio per il lavoro svolto c'è antonella bagno del pdf piemonte c'è leo bollettini lucia guida massimiliano esposito non sono bello ma piaggio ma piaggio saluto anna russo agli amici che ci seguono perché alla fine ci vogliono bene come dice lei saluto massimo dal passo a canale conegliano andiamo alla grande conferma mirco de carli c'è danilo lonardi che è solo piacente e non è juventino finale di coppa italia ragazzi che grande serata che grande serata iguain iguain va bene adesso mi ricontrollo subito rosa maria calabrese i triestini di alessandro cocco ecco il popolo della famiglia più estremo quello di trieste sam simona lupi popolo della famiglia eh di ehm abruzzese che ricorda giustamente che oggi ricorre l'ottavo anniversario dei 309 morti del terremoto del terremoto dell'aquila ehm un abbraccio ad alessandra bertozzi a nancy drew che ci scrive dal popolo della famiglia di treviso maria grazia tocco ehm e allora via alla buona notizia del giorno perché poi il resto sarà complicato da raccontare quindi sentiamoci prima di tutto la buona novella mettiamoci in pace con noi stessi con il messaggio di verità che testimoniamo siamo sempre nel vangelo di giovanni ottavo capitolo i versetti sono dal 51 al 59 in quel tempo gesù disse ai giudei in verità in verità vi dico se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte gli dissero i giudei ora sappiamo che hai un demonio abbramo è morto come anche i profeti e tu dici che osserva la mia parola non conoscerà mai la morte sei tu più grande del nostro padre adrà abbramo anche i profeti sono morti chi pretendi di essere rispose gesù se io glorificassi me stesso la mia gloria non sarebbe nulla chi mi glorifica è il padre mio del quale voi dite è nostro dio e non lo conoscete io invece lo conosco e se dicessi che non lo conosco sarei come voi un mentitore ma lo conosco e osservo la sua parola abbramo vostro padre esultò nella speranza di vedere il mio giorno lo vide se ne rallegrò gli dissero allora i giudei non hai ancora 50 anni e hai visto abbramo rispose loro gesù in verità in verità vi dico prima che abbramo fosse io sono allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui ma gesù si nascose e uscì dal tempio questa è la parola del signore di oggi come sempre fortissima nella sua descrizione anche letteraria lo ripeto quasi cinematografica il dialogo è serratissimo è un dialogo che sembra scritto da uno sceneggiatore di film dei giorni nostri la fuga l'exit come si dice in termini teatrali l'exit di gesù dalla scena è di natura cinematografica io prego di capire e comprendere come una persona che ama scrivere che ha scritto libri davanti alla bellezza e modernità della scrittura del vangelo resti completamente affascinata anche solo da questo elemento è incredibile un libro scritto due millenni fa regga questa capacità stilistica stilistica nella descrizione degli avvenimenti e poi la verità la forza della verità la forza della verità in questa frase prima che abbramo fosse io sono che bellezza che bellezza come suona bene come apodittica conclusiva e lì ci interroga o c'è fede in questo incontro con l'io sono o c'è l'idea è tutta questa sia una favoletta come ci dicono spesso i nostri amici che vengono anche qui magari a contestare stampa e vangelo noi crediamo a un amico immaginario oppure questa è una straordinaria testimonianza di verità di un incontro con la verità più profonda con l'incontro carnale con la verità la bellezza dell'incontro carnale con la verità e dunque con la testimonianza della verità davvero questo ci riconcilia con il dovere della testimonianza della verità nonostante ogni delusione che diciamo la contingenza la quotidianità può offrire a ciascuno di noi danilo lonardi dice se è una favola è di una folle bellezza se è vera come si fa a far finta di nulla bellissimo commento di danilo davvero bellissimo commento marco de mizzi dice io dovrei credere ai miti greci perché hanno scritto l'odissea io ripeto la incontro con cristo è quotidiano nella quotidianità con i miti greci non ti ci incontri questa è la differenza però se sei qui marco ripeto se tutte le mattine tu senti la necessità di ascoltare il vangelo noi siamo un passo avanti nel rapporto diciamo così tuo con la verità perché immagino tu abbia diecimila altre cose da fare al mattino alle nove se invece sei qui evidentemente c'è qualcosa che ti tocca che qualcosa che ti rende piacevole stare qui con noi a trascorrere un'ora a discutere di questioni che riguardano noi perché noi parliamo di popolo della famiglia parliamo delle nostre esigenze delle nostre letture dei fatti parliamo di vangelo e si vede che tutti questi argomenti in qualche modo ti attraggono federico pieroni dice questo amico mi ha salvato in molti momenti in cui altri amici non c'erano e questo è un altro elemento che gesù c'è sempre e ci rende la mano sempre saluto mario gamboli andrea sergio francesco il vangelo è un bel libro che possono leggere tutti anche gli atei saluto silvia lodà corrado salonia del pdf diavola c'è francesca donzelli la saluto una delle prime volte la vedo scrivere nella nostra diretta quindi un abbraccio maria marroso una bella maria che scrive gesù esce dal tempio ma poi ci torna sempre esce per trovare tutti noi e chi è lontano saluto maria piatti girolamo nadia sanchioni e anche mira d'angelo allora veniamo ai fatti di oggi cosa è successo attenzione parlerò di questioni tecniche di questioni tecniche però importantissime avrete letto se siete abbonati alla croce che abbiamo parlato di un governo che rischia la crisi comunque se avete eseguito un telegiornale se avete eseguito anche un qualsiasi altro quotidiano vi accorgerete che ieri c'è stato un qualcosa di strano cioè in commissione affari costituzionali dove si bisognava eleggere il nuovo presidente della commissione affari costituzionali presidenza importantissima perché in affari costituzionali in questo momento ci va la legge elettorale è la commissione che deve analizzare la possibile nuova legge elettorale bene si arriva alla saluto intanto alberto cerutti il nostro candidato sindaco di borgo manero persona coraggiosa e forte che non ama che si parla ma si parli male di lui sono certo e dunque capirà che quando si parla male di me neanche io lo amo molto che accada e dunque replico come necessario giusto che sia perché la delegittimazione ciascuno di noi è il tentativo di delegittimazione del pdf e noi non lo consentiremo mai non lo consentiremo mai non perché delegittimazione della nostra persona perché delegittimazione del popolo e della famiglia e questo non sarà consentito a nessuno meno che mai con le falsità le menzogne le strumentazioni punto e chiuso argomento dicevo stato votato ieri il nuovo presidente di commissione affari costituzionali il presidente di commissione affari costituzionali è decisivo lo ripeto per la questione che riguarda la nuova legge elettorale cosa succede ieri all'improvviso e a sorpresa con 16 voti viene eletto il presidente candidato di alleanza popolare cioè degli alfaniani non viene eletto il presidente che doveva essere eletto che era del partito democratico apri di cielo tradimento gli alfaniani si sono votati da solo il loro presidente maria marloso mi dice ieri pura le iene ti hanno menzionato mario velocemente ma in modo negativo ecco è un'altra cosa che dovete capire come dice bene maria io vengo massacrato dalle iene tutte le puntate che hanno massacrato dai media tradizionali massacrato da gable che fa quattro articoli al giorno scrivendo cose andate a leggere insopportabili contro i me mi diciamo il fuoco nemico è incredibile se poi arrivano 200 righe di fuoco amico o qualcuno che scrive bisogna dea di non fizzare perché così si diventa potabili diciamo così ecco allora in qualche modo deve pure mettervi nei miei panni di uno che non ne può più perché proprio bisogna stare nei panni di uno che tutti i giorni tutti i giorni viene massacrato da jx fedez il dito medio da questo di quell'altro e che mai viene difeso mai viene difeso non è che quando fanno il dito media da di nolfi la la petizione online la fanno per difendere di nolfi non lo citano proprio di nolfi tutti i giorni che il signore manda su questa terra da quattro anni io ho questo trattamento tutti i giorni con migliaia di insulti che arrivano da ogni luogo perché il nome da massacrare è quello di ad inolfi non altri nomi che sono stati ben parati in una parte si prendono stipendio adesso a fine mese quando poi arrivano 200 righe di quello che si prende lo stipendio e fa pure la lezione cina dopo che a largo di torta argentina ci è venuto dieci volte a mangiare quando gli servivano le cose ecco capite che insomma siamo umani abbiamo sangue che scorre nelle vene d'accordo e fanno le allusioni mafiosette su come guadagna i soldi a di nolfi la fortuna di essere un volto che può andare in televisione un volto che può scrivere libri un volto che può scrivere articoli e che per questa sua attività da 27 anni è retribuito e fra 13 anni grazie a dio va in pensione d'accordo quando viene attaccato non c'è mai una parola a difesa mai una attaccato su tutti i piani se dico una frase su sull'eutanasia viene chiuso il profilo per un mese non si sentono voci a difesa se faccio un intervento e vengo massacrato in maniera viega sulla tv nazionale dai jay x dai fedez che poi fanno i video ulteriori per insultare non si è mai sentita una parola a difesa però poi prendi 200 righe di insulti da uno che adesso campa stipendio e lucra sulla petizione online che vi chiede di firmare va bene allora qualche volta potete comprendere che si reagisca quando tutti i santi giorni la vita che uno trascorre è questa qui tutti i santi giorni dalla mattina alla sera d'accordo che poi gli dicono non devi reagire stateci nei panni e raccontatemi come non reagireste voi allora diciamo nella questione elezione del presidente della commissione affari costituzionali ora questa elezione che ha fatto saltare il presidente della commissione che volevano i democratici fa sì che renzi abbia potuto chiamare il golpe attenzione quel voto è avvenuto a voto a voto segreto da jonardi dice bene io ho difeso tutti loro che venivano qui a torre argentina a chiedere difesa quando venivano messi sulla graticola ho difeso tutti loro tutti loro che venivano qui a baciare silvia e poi gliene parlavano male alle spalle l'indegno pulpino tutti loro apro e chiudo questione d'accordo in questa casa da dove in questo momento trasmetto la famosa casa dell'angelo custode che comunque protegge ogni mia parola grazie a dio si vede eccolo qua grazie a dio in questa casa si è stata la processione e non a casa è la casa dove si è fondato il comitato difendiamo i nostri figli e mi dicono che devo contenere mi contengo mi contengo come sentite non accuso mi difendo e difendo la dignità del popolo della famiglia e di coloro che pensano che delegittimando maria di nolfi delegittimiamo il popolo della famiglia questo meccanismo non sarà consentito non sarà consentito il popolo della famiglia una grande esperienza di decine di migliaia di persone che stanno lavorando in tutta italia lavorano come pazzi per sostenere degli ideali lo fanno gratis anzi mettono i soldi loro per fare questo lavoro qui a partire dal sottoscritto che ne ha messi tanti e non stanno a stipendio per chiedere la firma sulla petizione online è una differenza sostanziale d'accordo allora quell'elezione del presidente avvenuta a voto segreto secondo paolo pasarisi zingarello l'hanno fatta gli alfagnani perché sanno la legge elettorale per loro sarà determinante altrimenti rischiano l'estinzione il mio sospetto lo dico a paolo lo dico agli altri e che l'abbiano fatta proprio i renziani lo dico da ex deputato renziano conosco molto bene matteo sono stato uno dei pochissimi deputati renziani a sostenere matteo renzi nella primaria del 2012 quelle che perse c'erano 400 parlamentari schierati con bersani io che volevo far perdere quella sinistra mi alleai con matteo e sostegni la candidatura di renzi ora il tema di chi fa fatto la manovra in commissione affari costituzionali importantissimo quando matteo vinse le elezioni primarie del 2013 ricordate le vinse a dicembre il presidente del consiglio si enrico letta nessuno pensava che nel giro di un mese enrico letta sarebbe saltato anzi lo stesso lo stesso matteo renzi si presentò in televisione da d'aria bignardi quella che poi ha fatto direttore di rai 3 che attualmente è direttore di rai 3 e ha detto il fa la famosa frase letta stai sereno enrico stai sereno dopo dieci giorni il governo letta era saltato ora siamo nella fase del primaria del pd il 30 aprile si votano le primarie del pd renzi ha incassato due giorni fa un consenso molto ampio il 66 per cento dei voti due due su tre hanno votato renzi nei congressi di circolo fatti tra gli iscritti ora si fanno le le primarie aperte se renzi dovesse incassare le primarie aperte secondo voi lo schema che seguirà sarà simile a quello con cui si sbarazzò di ricoletta subito dopo le primarie vinte nel 2013 secondo me sì secondo me quello che è accaduto ieri in come fuori commissione affari costituzionali è stato innescato dai renziani stessi a scrutino segreto tant'è che i voti per la l'avversario dei temi sono stati 16 molti voti marco rapetti arriconi che sta a leggere i fatti della politica dice renzi cerca l'incidente per far sciogliere le camere andare alle elezioni e sono convinto sia esattamente questa la situazione renzi ha cominciato a terremotare la la maggioranza forse anche in accordo con alfano che come ha detto bene paolo pasanisi potrebbe avere interesse a tenere questa legge elettorale che ha soglie di sbarramento molto basse quella del 3 per cento e dunque il combinato disposto degli interessi di alfano e di renzi hanno prodotto l'incidente ieri in commissione affari costituzionali perché questo è importante per il popolo la famiglia perché incide sui tempi di preparazione che noi abbiamo in vista delle prossime politiche ora sono dei tempi tecnici di scioglimento delle camere 75 giorni alla fine sono e sono certo perché ho notizie dirette che il quirinale non voglia arrivare a scioglimento rapidissimo ma certamente se dovessero saltare gli elementi di maggioranza e il pd e alleanza popolare che sono i due contraenti del patto di governo dovessero far saltare il governo alla a mattarella resterebbero pochi strumenti come dire ne stagliano sono demoni al governo è importante però capire come funzionano queste logiche demoniache perché queste sono logiche che chi è stato in parlamento conosce che sono il contrario della verità che leggete sui giornali sulla verità leggete che renzi si lamenta che zanda grida al complotto che guerrini dice così non si può andare avanti ma la verità è che tutto questo è stato con ogni probabilità prodotto dagli stessi che si lamentano d'accordo per forzare la mano alla presidenza della repubblica che invece aveva addirittura ha detto si vota neanche a febbraio prossimo a maggio cosa può accadere adesso cerchiamo di capire allora noi andiamo a lezioni amministrative noi noi è importante per noi noi per popolo la famiglia noi siamo in giro tutti quanti come ho detto ieri stava a conegliano mirco de carli c'era gianfranco amato a radicare il partito a lecce dove pure si vota nella provincia pugliese siamo andati dopo sabato sarò io ad alessandria abbiamo fatto appena iniziativa genova l'iniziativa a manza a monza a parma a verona c'è filippo glicolini e si sta battendo come un leone insomma siamo in piena campagna in piena campagna per le amministrative è possibile che questa campagna per l'amministrativa sia immediatamente precedente alla campagna per le politiche oggi vi dico una data l'ho anche scritta nella presentazione di stampe vangelo è possibile che le elezioni politiche si tengano il 19 novembre prima data utile di scioglimento dopo la pausa estiva ora saluto rosa e l'onore degli esposti che dice non è bello che poni queste diatribe in diretta ho posto solo una spiegazione della diatriba perché non voglio sembrare quello che ignora le cose sono accadute o fa finta di niente spiego do una spiegazione in un confine molto limitato di tempo torniamo a quello che stavo dicendo come dice marco buono glicolini davvero un leone dobbiamo essere tutti leoni in questo momento perché la battaglia per le amministrative che stiamo conducendo con tanta forza è una battaglia che ha come caratteristica quella di essere immediatamente precedente alla battaglia per le politiche come ho detto a settembre eh in articolo uscito ieri sulla croce noi ci doteremo anche di un consiglio nazionale allargato per cui tutti coloro che hanno partecipato alla lotta sui territori nelle amministrative parteciperanno insieme ad amato a me a nicola di matteo alla definizione dei 945 candidati che porteremo all'attenzione del paese per la nostra candidatura alla camera e al senato quindi stiamo anche selezionando classe dirigente in questo momento rischiamo di avere poco tempo questa manovra che è accaduta ieri che oggi trovate sui giornali spiega che potremmo avere poco tempo dunque dobbiamo spenderci ora sulla campagna per le amministrative come se fosse la campagna per le politiche ricordo che il nostro coordinatore nazionale Mirko De Carli al nord ha tutta la modulistica che serve per fare la presentazione liste l'accettazione candidature la raccolta firme sono modulistiche complesse ma dobbiamo farle tutte procedere con correttezza alla presentazione liste la bellezza c'è stata quando abbiamo presentato liste al nostro battesimo il 5 giugno scorso quando abbiamo presentato ai primi di maggio fu che neanche una lista è stata contestata e tutte le liste erano perfettamente in regola dal punto di vista documentale avete visto che il 5 stelle anche quelli di virginia raggi hanno fatto errori madornali nel presentare le loro liste elettorali facendo imbrogli perché quando uno presenta un atto principale datato 20 aprile con il numero di firme totali raccolte quando le firme totali raccolte le hanno raccolte il 23 aprile evidentemente lì c'è un imbroglio questo però spiega anche a noi che l'atto principale è sempre l'ultimo atto che si va a compilare anche come data rispetto alla agli atti separati con cui invece raccogliamo le firme sul territorio un saluto a maria simona dalla basilicata vi chiedo un mi piace un condividi tutto quello che stiamo parlando oggi è estremamente importante per la vita del popolo e la famiglia sul territorio perché il lavoro che faremo adesso con raccolta firme e che anche politici con esperienza trentennale si presentano documenti non in regola come ci racconta marco buono noi dobbiamo fare tutto perfettamente in regola come nostra abitudine come abbiamo dimostrato di essere capaci di fare in tutte le grandi città nelle ultime elezioni amministrative ora siccome ci candidiamo in molte più città in questa tornata amministrativa stiamo cercando di avere un materiale assolutamente perfetto perché tutto questo è poi propedeutico alla raccolta firme ancora più impressionante che dovremmo mettere in piedi per la elezione politica che potrebbe svolgersi ve lo dico il 19 novembre 2017 cioè abbiamo da oggi sette mesi comprese le pause estive pochissimo pochissimo Maria Bellino dice a giugno si vota anche a San Donato Milanese nessuna lista prova a mettere su anche tu un rapporto con persone che vogliano fare una lista e dai segnale a nicolaroma.hotmail.com nicolaroma.hotmail.com che è l'indirizzo email di Nicola Di Matteo questi sono elementi fondamentali dunque da conoscere quando leggete che cominciano a esserci queste scaramucce che sembrano dettagli tecnici ma poi vanno a occupare le prime pagine dei quotidiani compreso il nostro quotidiano sulla croce abbiamo spiegato nell'editorialino di oggi tutte queste dinamiche attenzione perché vuol dire che si sta approssimando il terremoto che condurrà alle elezioni politiche ci chiedono se candidiamo gente a caso Silvia Lodà dice no caro Marco non presentiamo gente a caso ma persone che ci credono profondamente facciamo tutto a puntino senza sbavature di irregolarità come certi amici tuoi che sono quelli del 5 stelle perché Marco De Mizi o Domizi come si chiama è uno del 5 stelle e il 5 stelle a Roma si è presentato con gli atti irregolari completamente irregolari cioè l'alto principale datato 20 aprile atti secondari 23 aprile deve essere il contrario non lo sanno adesso lo sanno perché gli è arrivata l'inchiesta addosso noi abbiamo fatto tutto con una precisione vuol dire imbarazzante per essere persone che lo facevano alla prima occasione perché in tutta Italia molti hanno raccolto film era la prima volta in vita loro che facevano le liste e dunque noi dobbiamo ripetere questa performance organizzativa è un elemento importante per il popolo e la famiglia la dimensione organizzativa ricordiamoci non facciamo del nostro movimento un convegno di studi noi facciamo raccolta di consenso per raccogliere il consenso dobbiamo prima di tutto strutturare organizzativamente la presentazione delle liste e noi oggi presentiamo da oggi cominciamo a raccogliere le firme per la presentazione delle liste che ricordo sarà dal 10 all'11 maggio dal 10 all'11 maggio si presenteranno le liste per queste amministrative cosa vuol dire? che qui c'è adesso la settimana santa Pasqua vuol dire che noi raccoglieremo firme dal 20 aprile dal 20 aprile al 10 maggio sono 20 giorni il lavoro è importantissimo bisogna prima raccogliere bisogna prima individuare il candidato sindaco poi raccogliere le accettazioni di candidatura delle persone che intendono candidarsi in lista poi sulla lista e sul candidato sindaco raccoglie le firme di presentazione da parte di cittadini mentre i candidati possono non essere residenti nel comune in cui si vota i cittadini che firmano devono essere residenti nel comune in cui si vota queste indicazioni tecniche vanno poi integrate con la nomina del mandatario elettorale per le spese dovete aprire un conto bancario quindi è bene farsi un'associazione locale in maniera che avete un codice fiscale per giustificare le spese e aprire il conto bancario tutto questo va fatto nella massima regolarità come grazie a Dio è stato fatto il 5 giugno 2016 al battesimo diciamo così elettorale del nostro movimento che si è tenuto appunto alle scorse amministrative ora in queste amministrative il nostro obiettivo è crescere di consenso in maniera significativa su una piattaforma politica alternativa che noi riteniamo essere l'unica soluzione per evitare situazioni come il consiglio regionale del Lazio che mette la RU486 ambulatoriale il consiglio regionale dell'Umbria che fa la legge sul gender il comune di Torino che taglia i fondi alle scuole materne cattoliche e tutte le iniziative che a livello territoriale stanno impiantando l'ideologia contro la famiglia che noi combattiamo essendo a difesa della famiglia come intesa l'articolo 29 della Costituzione questo lavoro è un lavoro propedeutico alla battaglia che svolgeremo per le elezioni politiche che si terranno lo ripeto credo in un tempo ragionevolmente breve potrebbe essere addirittura 19 novembre 2017 che vuol dire che tolte le ferie estive abbiamo sei mesi scarsi di lavoro per radicare su tutto il territorio nazionale le nostre bandiere diciamo così e andare poi a ricerca di consenso determinante per l'ingresso in Parlamento alle prossime elezioni politiche saluto Silvana Scuccia è un nome nuovo che porta però il simbolo del popolo della famiglia come fotoprofilo lo chiedo a tutti quelli che lo vogliono fare io stesso come vedete non ho la mia fotoprofilo ho la fotoprofilo simbolo del popolo della famiglia come dicono alcuni in maniera un po' disprezzante il bollino ecco io porto il bollino non ho la mia faccia la mia faccia è il simbolo del popolo della famiglia Esther Corona dice a Natale siamo in Parlamento esattamente saluto Tiziano Marco che scrive dal popolo della famiglia di Gorizia chiedo a tutti un mi piace e un condividi per queste istruzioni tecniche che ho provato a dare che sono utili a tutti coloro che vogliono costruire la lista e la presenza del popolo della famiglia sul proprio territorio Alessandra Mondelli dice che il sindaco è dir poco meraviglioso è vero è un bel simbolo grazie Alessandra Angelo De Salvatore dice ringrazia Marco De Mizi per il tempo che trascorre a sostegno e a difesa del popolo della famiglia tra l'altro innalza il numero di minutaggio di persone che seguono Stampevangelo è bello perché chi arriva su Stampevangelo non va via da Stampevangelo continua a seguirlo i numeri ci dicono questo saluto Massimo Cucciolotti saluto Natalina Minuz anche lui dice piglietto di presentazione e fotoprofilo saluto Costanza Verrecchia Danilo Bassanc vedi che ha trovato un modo per mettere sia a se stesso che la fotoprofilo con il simbolo Pierluigi Cordoba dice dove si trovano esattamente i soldi per il reddito di maternità sappiamo bene che molte cose non vanno ma bisogna superare ormai il momento della condanna della denuncia ed essere propositivi noi siamo stati molto propositivi considera che il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza cioè dice che ci sono i soldi indica pure le coperture per dare i soldi a tutti i cittadini italiani 780 euro al mese noi diciamo che invece abbiamo una platea molto ristretta cioè delle donne che scelgono dopo aver fatto un figlio di restare con il proprio bambino di fare le madri abbiamo immaginato un'indennità di 1000 euro al mese una platea estremamente ristretta il costo sarebbe di 3 miliardi di euro l'anno considerando che quest'anno proprio quest'anno pochi mesi fa hanno fatto un decreto di 20 miliardi di euro per coprire i buchi delle banche amiche diciamo così per decreto insomma davvero 3 miliardi di euro sono un nulla un nulla che si trova solo sugli sprechi della pubblica amministrazione basta pensare ai bandi unar ai bandi unar che sono stati denunciati a chi andavano quei soldi a pioggia centinaia e centinaia di bandi sempre sotto il milione di euro 999 mila euro si recuperano da lì e abbiamo già fatto i 3 miliardi per il reddito di maternità che speriamo poter spendere che dobbiamo anche sperare che le donne vogliano scegliere questa opzione il reddito di maternità è esattamente questo una fa un figlio a 20 anni si dà i soldi per far sì che possa vivere bisogna fare tagli importanti alla spesa pubblica al carruzzone alla pubblica amministrazione il reddito di cittadinanza è invece una follia non lavora nessuno come dice bene Marco Buono non gli spingiamo a far nulla c'è un bell'articolo anche su il giornale in prima pagina sull'errore tragico del reddito di cittadinanza Massimiliano Amato segnala dal blog di Gianfranco Amato un esempio di come trovare i soldi per finanziare il reddito di maternità il link lo trovate sul blog di Gianfranco Amato che ha appena postato Massimiliano ricordiamo Gianfranco Amato reduce da 4 giornate 4 teatri sold out in terra di Puglia per radicare il popolo della famiglia saluto Marco Pennetti saluto Massimo Cucciolotti saluto Gioconda che dice volevo fare il secondo e il terzo figlio ma non ce lo siamo potuto permettere appunto l'idea è questa se tu immetti direttamente nelle tasche della famiglia il reddito possibile per aumentare le entrate della famiglia stessa la famiglia diventa protagonista anche del rilancio economico del paese e se liberi le donne della dover andare a fare magari le donne delle pulizie a lavare le scale a 550 euro al mese con un reddito di maternità gli consente di sviluppare la famiglia tu dai ricchezza e libertà e dunque è un elemento fondamentale della nostra azione saluto Guido Mastro Buono è arrivato anche lui Federico Pieroni invita Marco De Mizi al prossimo incontro nazionale del pdf Silvia Lodà è molto soddisfatta penso l'abbiano attaccata per il numero di voti che ha preso ha preso importanti i consensi noi abbiamo preso sul municipio nono dove si è candidata Silvia Lodà in consensi molto importanti e municipio nono di Roma quindi un risultato davvero importante il reddito di maternità sarà dato alle donne non alle donne spolose alle mamme sarà dato a chiunque faccia un figlio ovviamente cittadino italiano perché questo è un reddito per i cittadini italiani e per avere qualche figlio in più diciamo così l'obiettivo è avere un attacco serio al tema della denatalità dobbiamo il nostro primo guaio è che non si fanno figli in questo paese la forza è nel fare figli un paese che non fa figli è un figlio morto è un paese morto un paese che purtroppo ha 350.000 figli di italiani e 650.000 italiani morti ogni anno è un paese destinato a morire noi o invertiamo questa tendenza con qualcosa di drastico o altrimenti abbiamo un paese destinato a morire ad essere colonizzato dalle culture straniere perché nel frattempo gli stranieri 7% della popolazione fanno il 25% dei figli quindi noi dobbiamo in questo momento assolutamente e drasticamente comprendere che quella è la priorità del paese dalla famiglia si riparte dai figli si riparte e dunque dobbiamo costruire queste condizioni non sarebbe meglio avere famiglie in più beh certo con più figli si avranno più famiglie questo è ovvio perché altrimenti come dice Giuseppe Fucone ci stiamo estinguendo e noi non possiamo permettere l'estinzione di un faro della civiltà qual è stata la cultura civile giuridica religiosa dell'Italia Guido Mastrobuono dice noi siamo l'unico partito della vita gli altri sono tutti partiti di morte Vanna Surci dice finalmente si parla di chi sceglie di fare la mamma per scelta esattamente saluto Cristina Zaccanti che ricorda l'invito di Erdogan ai turchi fate cinque figli e l'Europa sarà nostra questo è l'invito che ha fatto Erdogan ai turchi sparsi sul territorio europeo fate cinque figli ciascuno e in effetti dal punto di vista demografico la demografia non è una opinione è una scienza esatta è una scienza esatta e allora se questo è il trend l'Italia si estingue se i turchi fanno cinque figli come dice Erdogan nei territori dove sono collocati ormai a milioni l'Europa si islamizza allora come diceva bene il cardinale Biffi o l'Europa torna a essere cristiana o sarà islamica questo è un dato di fatto è un dato di fatto qui c'è Ciro Innelli se i vampiri che ci governano trenassero meno soldi si potrebbero dare alle famiglie e allora siccome noi vogliamo andare al governo per fermare il drenaggio di soldi da parte dei vampiri per dare alle famiglie date voti al popolo e alla famiglia perché in questa maniera fate ripartire anche l'economia del paese perché rimettiamo i soldi in tasca alle famiglie questo è il lavoro che andiamo a fare questo è il lavoro che andiamo a fare si potrebbe incentivare la maternità fuori dalla famiglia è molto raro insomma che davanti a un bambino o una donna non voglia avere il padre diciamo così è molto molto raro qualsiasi donna che fa un figlio vuole una famiglia questo dobbiamo averlo in testa insomma saluto Simona Bartoli e oltretutto se facessi il reddito di maternità distinguendo da donne sposate e donne non sposate ci sarebbe un immediato intervento della Corte Costituzionale per per una diseguaglianza che sarebbe conflittuale con l'articolo 3 della Costituzione quindi meglio non esporci a questo tipo di contestazione saluto Anna Ciappa che ha contato appunto i 180.000 che hanno votato nel nono municipio saluto Francesca Immacolata che non è stata bene ha avuto problemi di salute e dunque la abbracciamo perché ha avuto la febbre a 41 ha dovuto subire un intervento chirurgico noi siamo a fianco anche di Francesca in questo momento di dolore e sofferenza ci ha fatto anche un bel racconto di un contesto sanitario che ha funzionato e che ha curato i suoi malanni allora noi siamo arrivati alla fine di questa puntata vi ricordo gli impegni del Popola Famiglia in questo fine settimana perché sabato c'è ad Alessandria la presentazione della lista Alessandrina sta con me anche Don Damiano Cavallaro bellissimo momento di occasione pubblica e ormai vado in territorio sempre con un sacerdote al fianco sapendo di essere l'ultimo dei peccatori e il cattivone dei cattivoni mi faccio accompagnare da sacerdoti di grandissima e specchiata moralità in maniera che possano compensare la mia insussistenza da quel punto di vista e sono lieto davvero di essere accompagnato da queste figure di grande rilevanza dunque tutto lo sforzo che stiamo facendo sulle amministrative l'avete presente saluto Alessandra Bertozzi di Pisa ringrazio tutti gli amici che hanno voluto seguire questa puntata di Popola Famiglia vi chiedo ancora un mi piace e un condividi alla diretta di oggi perché abbiamo dato informazioni importanti e tecniche sulla formazione delle liste del Popola Famiglia sui prossimi impegni che dovremo affrontare come Popola Famiglia saluto Andrew Clemens che è arrivato dall'Australia a seguirci e ascolterà la differita perché è arrivato in ritardo come dice Angelo Salvatore Angelo De Salvatore facciamo la storia è la frase che è scritta sulla testa del Partito del Popolo Famiglia tesseratevi al Popolo Famiglia sulla croce di ieri trovate le modalità di tesseramento lo statuto nazionale tutto quello che serve per radicare sul proprio territorio la presenza del Popolo Famiglia iscrivetevi al Popolo Famiglia rendete forte questo unico movimento che si batte per la vita e per il rispetto dell'articolo 29 della Costituzione contro la cultura di morte e contro una cultura che sta portando attacco alla famiglia costantemente con leggi con leggi d'accordo saluto Rosa in onora degli esposti Jacopo Pioli dice l'Australia è da osservare per il supporto economico alle famiglie l'Australia è straordinaria sapete che io ho il passaporto australiano la doppia cittadinanza va anche detto che l'Australia ha 21 milioni di abitanti su un territorio grande come l'Europa è un po' è un po' diversa insomma la condizione saluto Rosetta di Ponziano saluto Simona Lupi che l'ha condiviso come ogni giorno la puntata di Popola Famiglia TV Enrico Marotta annuncia un suo articolo sul quotidiano la croce di domani quindi ricordatevi anche se potete se volete di leggere il quotidiano la croce abbonandovi www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora c'è anche bella lavanda saluto Federico Pieroni dice un abbraccio a tutti lottiamo senza se senza ma grazie di esserci ogni giorno Jacopo Pioli è in Cina la sua famiglia in Australia ammazza vi siete proprio disseminati caro Jacopo bravissimo territorio straordinario l'Australia di una bellezza unica forse il paese più bello del mondo buona giornata sabato mattina c'è ancora Amato in provincia di Lecce saluto Rocco Felice Angelo Salvatore mi aspetta a Brescia un abbraccio a Piera Giacometti grazie per ieri e oggi veramente istruttivo e chi istruisce è un grande sono solo grosso caro cara Piera però ricordati di fare un mi piace un condivido alla diretta perché così le istruzioni arrivano a più persone possibili questo è l'obiettivo che dobbiamo avere con le puntate di stampa e Vangelo noi ci troviamo come sempre domani alla stessa ora diciamo che ormai ci siamo stabilizzati sulle 8.30 lo dico ad amici del palinsesto partiamo dalle 8.30 per arrivare a a a a quest'ora quando finiamo la puntata Federico Pironi dice Jacopo Pioli può organizzare pure il PDF Australia può partire dal PDF Cina anzi dal PDF Asia che ci serviranno anche i voti degli italiani all'estero saluto Donatella Lotà che dice il paese più bello del mondo è l'Italia è vero è bellissimo in più l'Australia è anche organizzato però insomma quindi un grande saluto a Stefano Sigali un grande saluto a Chittifa per la nostra Ponti candidato sindaco a Monza ma certo Manuela è la nostra candidata sindaco a Monza è assolutamente da sostenere lo dice Giampiero Bonfanti assolutamente una grande forza le nostre donne le donne candidate un abbraccio davvero a tutte le donne che stanno mettendo la loro faccia in questa battaglia elettorale dell'amministrativa 2017 saluto a Esther Corona altro simbolo di donna forte del popolo della famiglia Luciano Signoria dice più che essere australiani torniamo a essere fieri italiani giustissimo Silvestro Voltaggio che sta in Svizzera dice italiani in Svizzera svegliatevi c'è Anna Esaurite Celli Jacopo Pioli dice in Cina è un po' più complicata politicamente c'è il partito comunista cinese che controlla diciamo in maniera un po' più asfissiante la vita democratica lo capisco bene un saluto a tutti davvero un mi piace un condivido alla diretta noi ci ritroviamo tutti insieme come sempre con l'appuntamento per domani ultimo venerdì prima della settimana santa e vi ricordo che poi durante la settimana santa osserveremo invece una settimana di preghiera e meditazione per evitare diciamo così di stare dentro nel contesto dell'attualità che ci distragga dal significato profondo della settimana della passione morte e resurrezione di Gesù Cristo un abbraccio a tutti voi grazie a Silvia Lodà per la solita carica mattutina la solita carica mattutina che avete dato voi a me anche nei giorni in cui uno si sente un po' più abbattuto un po' più affaticato e dice però bisogna andare in onda però bisogna parlare però bisogna esserci comunque ogni giorno ogni giorno con la stessa costanza nonostante tutto nonostante ogni parola sbagliata che viene rivolta contro perché bisogna farlo e perché se non lo facciamo noi non lo fa nessuno e quindi il nostro lavoro non a stipendio ma da volontari della libertà da volontari della testimonianza della verità per radicare davvero un'alternativa possibile e non fare chiacchiere fare cose concrete e allora bisogna essere tutti i giorni nonostante ogni situazione umorale davanti al mondo testimoniando con forza la verità che abbiamo incontrato prima e scelto di testimoniare poi un saluto alla bellissima Francesca Batuzzi un saluto davvero a Claudia Brignoli a Vittoria Polacci ad Alex Zino Finori ad Anna Russo ad Anna Luciano Anna Esaurita Ecelli davvero un abbraccio a tutti voi grazie anche per il sostegno e come dice Rita Mesiti se non ve la sentite sentitevela coraggio ecco così coraggio coraggio grazie a tutti quelli che combattono questa buona battaglia come dice Donatella Lotà forza perché tutti insieme vinceremo come dice Silvia Lotà un abbraccio da Maria Linolfi un mi piace un condividi mi raccomando più persone possibili possano seguire questa importante diretta di oggi di Popolo della Famiglia TV di Stampe e Vangelo saluto anche Eugenia Giovinazzi e con lei tutti gli amici della diretta di oggi da Maria Linolfi una buona giornata a tutti